pizza food.tv la prima e unica web television interamente dedicata al mondo della pizza Francesco Zazzara, questo è host 2013 Fiera Raw Milano, lo stand è quello di Valoriani ma in realtà siamo con Diego Libanore che è il titolare di Milberg, Milberg è un'azienda molto conosciuta nel settore soprattutto per un prodotto, un bruciatore che si chiama Spitfire, eccolo qua, allora buongiorno intanto Diego, ce lo spieghi, ce lo racconti, ci dici l'evoluzione, insomma qualcosa di curioso su questo gioiellino. Ormai penso che Spitfire sia molto conosciuto soprattutto nel mondo e un po' meno in Italia, ci conoscono per il marchio, Spitfire ha raggiunto traguardi molto importanti, è certificato in America, in Canada, ULCSA, ha raggiunto la certificazione australiana con AGA e sono tuttora in corso comunque con altri clienti, molto soddisfatti, certificato de FAUGB e quindi penso che sia un riconoscimento che trova sempre più mercato nel asiatico perché viene riconosciuto il marchio, che è la certificazione. È una scelta voluta perché il migliore e la qualità è sempre quello che alla fine fa pagare il lavoro e gli sforzi di ognuno. Spitfire è un marchio che risale già dal 98, quindi sono 15 anni, quest'anno sono 15 anni che operiamo con Spitfire e la soddisfazione è immensa. Ecco, ma il prodotto come funziona? Cioè è molto semplice, no? Sì, sì, diciamo che è sempre stato studiato insieme ai pizzaioli che ne utilizzavano e quindi tra consigli e innovazione, più che altro lo studio e la ricerca costante nel trovare le soluzioni adeguate ad ogni pizzaiolo è diventato un prodotto molto versatile e quindi utilizzabile sia dai forni a diametro da 100 fino ormai a 300 di centimetri, quindi 3 metri per 3 o addirittura l'abbiamo applicato anche su 4 metri di forno. Siamo riusciti con un unico prodotto, con delle varie versioni naturalmente sia il Silver Spitfire o il Gold Spitfire ad avere potenze che vanno dai 22-25 kilowatt, 29-34, 45-82 e 125 kilowatt, quindi si va sia dalla pizzeria o dal privato ma anche nel settore industriale come nei laboratori eccetera che fanno pane, pizza, poi si può cuocere di tutto, noi scaldiamo il forno, chi cuoce farà il proprio mestiere al meglio. Assolutamente, ringraziamo Diego Libanore, questa è PizzaFood.tv da Ost 2013 e Milano, Francesco Zazzara. Grazie.